e bentornati in questo nuovo fantastico video allora oggi siamo su adottimi per mostrare i nuovi aggiornamenti e quindi prima di tutto dovete iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un bel like io ho visto che da fastidio molto il volume mentre ok intanto andiamo nella casa spazio come ho detto già allora oggi è il 14 luglio sono le 7 e 44 e poi infatti 44 minuti fa verso le 17 ma lo so che è uscito un pochetto prima l'aggiornamento verso tipo le 16 e 50 e 58 57 è uscito infatti il nuovo aggiornamento allora ma come UGC come UGC scusa UGC non sapevo che usciva pure questo perché credevo che usciva dopo che sono uscite le uova forse uscirà ancora un altro aggiornamento e i pinguini ancora non vi avevo detto niente perché avevo altri video da programmare però oggi lo faccio vedere insieme a voi allora andiamo intanto prima prima a vedere l'UGC si è bugato ok se non serve normalmente pubblico allora vi devo dire una novità che ogni giovedì verso le 10 e mezza 10 e 30 ci sarà ogni ovviamente giovedì ci sarà un giveaway in cui magari dico allora vi lo spoiler subito allora intanto eccolo qua eccolo qua non ne sapevo niente di questo qua comunque dicevo che il rainbow trail magic carpet oddio perché ho cambiato ma perché così ve lo darò nel giveaway allora bisogna start visto che ho preso i robux allora bisogna prendere tutti questi oggetti ok allora bisogna prendere tutti questi oggetto secondi oddio spiegati valerio ok abbiamo preso tutto e quindi guardate cosa ci dà guardate eccolo l'irish water spaniel questo non ci farò ovviamente a ultralaro molto carino eh devo dire è tipo un barbuncello che carino allora molto carino insomma questo qua ok ho messo come preferito allora ho preso space wheel è vero lo dovevo prendere però non l'ho preso niente mi sono letteralmente scordato io so che ho preso i robux perché allora questo pet è molto carino però non ci farò il giveaway di questo perché io mi allora farò anche il giveaway del chick poi cioè faccio il giveaway del chick intanto però la prossima settimana di questo poi anche di no no di quello veramente no un pochetto tutte tutte le cose doppione che ho perché raga non è che posso spendere ogni volta tantissimo non è perché voi perché mi fate spendere tanto però allora allora io secondo voi allora visto che sono usciti nuovi pinguini allora intanto semmai va bene se ci schiudiamo dove è il cricket egg eccolo è il cricket egg ce lo schiudiamo schiudiamo prima dei pinguini oppure ce lo schiudiamo con i robux i robux raga io le devo conservare perché fino a settembre non le potrò più prendere perché mentre non ho più soldi quindi le prendo io con le carte con i robux allora tra 24 ore c'è il che mi chiedi il trade chi vuoi scambiare il cricket egg? scusa scambiare il cricket egg monkey i cani ti posso dare non è che lo devo fare dentro non è che lo devo fare dentro ok però il mooncake va bene bene pure il hotter fare il giveaway cioè raga non è che faccio leggendari però ogni volta che è regalo pet perché voi dovete essere connessi entro perché così magari che se siete voi i miei fan intanto non arriva mooncake devo mettere come preferito intanto deve arrivare almeno qualche missione perché altrimenti wild boar allora io chiederei di scambiare ehm no lirish water spagna ah ecco è arrivata adesso la missione allora ehi cosa stai facendo signora signora oddio allora il cricket egg il cricket egg non devo finire ecco devo fare una doccia quindi in un momento qua devo mettere mettere il water vabbè devo sistemare un pochetto il bagno anche il lavandino soprattutto allora 17 bucks allora cosa c'è nella tasca ragazzi ho allevato questo perché come buy an accessory from accessory shop lo prendiamo qualche accessory così ci dà anche 100 bucks 300 bucks e spendi bucks per la scuola quale mi piace molto mi piace questo fiocchettino no questo qua mi piace ok eccoci lo dà ora io ho speso 100 dollari e lui mi dà 100 dollari cioè non ha senso questa cosa me lo potevo dire allora non so che cosa sto cercando ho preso 100 bucks mi dà 100 bucks non ha senso molto questa cosa allora andiamo a scuola perché vi devo dire anche una novità ma perché è buggato è buggato raga cioè non c'è più New Fizzy e l'altro come si chiamava non c'è più questo personaggio quest'altro personaggio e anche quello dei giochi cioè raga anche la la lavagna è scomparsa cioè secondo me perché si bugga di volte cioè non so che cosa gli è successo boh vabbè e intanto spieghiamo in questo uovo ci trovo o il drago oppure oppure come si dice l'unicorno allora io però quanti quanti robux ho ah è vero devo prendere i pinguini ah ancora c'è quello per il capricorno allora allora voglio vedere se ho qualcosa di importante non c'è nulla di importante arriva qualche missione per favore arriva per favore la missione allora questo video verrà il 15 luglio oddio allora aspetta vi devo dire anche un'altra cosa che mi sono sbagliato io non mi ricordavo più di tutto di tutto ciò del retired egg allora avete visto questa casa forse verrà messo il retired egg dentro questo qua quindi lo potete prendere magari se avete un rampino per andare verso qua quindi andate là allora raga si è buggato tutto che succede allora aveva detto che faceva delle vedete delle modifiche che doveva fare delle modifiche aveva detto quindi raga se vedete è buggato così è perché deve fare delle modifiche allora non sarà solo goodland egg come vi avevo detto il cricket egg il pet egg e il royal egg rimarranno per sempre non vi dovete preoccupare perché cambieranno solo solo i pet allora raga io ho aperto il cricket egg cioè io dico ma così c'è il nuovo uovo c'è il nuovo pet quindi quindi raga non vi dovete preoccupare questi non vanno via viene messo il nuovo uovo ma non è che se lo mettono pure anche qua e magari quello per bere lo mettono da un altro posto per forza questo qua come si entra questo qua 499 ma se lo prendo quanto rimangono 910 no non me lo prendo non me lo prendo vabbè allora insomma andiamo a prendere intanto andiamo a scambiare va bene se andiamo prima a scambiare il panda ride ecco però dovevo dire prima quello che abc if you have polar beer beer aspettate lo devo prima lo devo prima beer e bc if you have polar beer il polar beer non può funzionare così piccolino non può funzionare non può funzionare ma non 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 ti posso scambiare per questo però che cosa ti do lo giudiac meno un egg ok vabbè ehm andiamo a prendere i pinguini è meglio è meglio è meglio andiamo a prendere i pinguini ok raga ehm i cragadegg prendeteli ehm deteli però non lo schiudete perché ci saranno i nuovi pet perché neanche io avevo oh madonna ma che bello c'è prendo questo qua 1184 lo prendiamo uno oppure due uno uno prendiamo sempre uno ok aspettate altrimenti credo eh ti ho paura che mi scappa bisogna andare vicino a quello oro bisogna andare oddio cosa è successo ok posso tirare dai 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 oro oro ma è stato il primo che è venuto l'oro che è oh no va bene se lo prendiamo un altro raga va bene prendiamo un altro perché raga voglio questo se non esce se non esce quello oro ve lo regalo faccio il giveaway vai 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 con l'oro vai oro non mi state mangiando a me mi state mangiando no raga purtroppo sono usciti due king penguin e quindi raga allora purtroppo uno lo devo fare nel prossimo giveaway allora è ricambiato quindi se volete il pinguino gratis da me perché tanto ho trovato due normali allora aspetta però adesso quanto vi mancano di robux la faccio fin ti aspetta che lo prendo e poi gli annendo non sono molto brava ad andare sui patti oh uffa non volevo la mano ok non volevo uscire volevo entrare volevo stare ancora la allora e se faccio jati now settecento 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 quattro quindi novecento robux vabbè allora quindi quindi faccio un giveaway giovedì alle diciannove trenta vi dico che sarà un maschio un maschio un maschio sarà del giveaway che farò giovedì sul king penguin quindi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete i like e iscrivetevi allora dovete per il giveaway dovete iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un bel like e soprattutto commentare qua sotto e dire qualche commento su di me quindi ci vediamo al prossimo video mi raccomando vi do buona fortuna per vincere questo fantastico pinguino ciao